La squadra d'attacco è trovato la bomba. Prepararsi all'azione nemica. Se rimani in questa zona il nemico è scoperto. Ti hanno scoperto. Torna indietro. La squadra d'attacco è arrivato. Ricarico. Vittoria alla difesa. Limizio indietro. Regadri nobbra? Mamma mia che guardone di camma ragazzi. Che sono questi? Mamma mia. Top guardone di camma questi. Rista solo un operatore d'attacco. R 싸čioni giorni. Miesione d'attacco riuscita. Prepararsi all'azione nemica. Agra? Arato Arato Alex Mi ha abbonato il canale Ah Lol Questi due kill E' lì con l'abbonato Entra C'è le palle Ammi a dire Dai Sì Raga ma che cazzo è sta roba Non mi è mai successo in tutta la vita di Rainbow Neanche su PS4 Questa la dedico ad Alex Quinta quadrupla della giornata Non mi è successo in tutta la giornata è in una zona controllata da l'edifico lasciala su what? che cazzo ho fatto? che cazzo ho fatto raga? 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 guarda mi drone per favore guarda mi drone per favore 1 angolo 10 secondi 2 secondi indonescu bomba avviato protecite il video Gli ho tirato questo Squadra d'attacco eliminata, missione completata La squadra d'attacco ha trovato una bomba Un bombo Modicato Si, 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 si Un dia è pieno, un dia è pieno Dove? Si, si Un uomo è ripetuta il gioco Un uomo è ripetuta Un uomo è un uomo e un uomo è ripetuta Un uomo è ieri Un uomo è il gioco Un uomo è il gioco Grazie a tutti 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 Grazie a tutti